Dalle nostre parti se ne è parlato poco, ma nelle ultime settimane è scoppiato un grande scandalo in Cina legato ad AstraZeneca. E' stato infatti arrestato il presidente cinese della multinazionale farmaceutica Leon Wang. Attualmente è ancora in custodia cautelare, secondo la Reuters. L'indagine riguarderebbe almeno due farmaci di AstraZeneca molto diffusi anche in Italia somministrati ai malati di tumore. L'agenzia di stampa cinese Kaixin ha affermato che alcuni dipendenti di AstraZeneca hanno confessato di avere manomesso i referti medici dei pazienti perché erano sottoposti all'enorme pressione per vendere i farmaci e raggiungere gli obiettivi mensili, mentre altri hanno dichiarato nelle confessioni che i pazienti avevano chiesto loro di modificare i risultati dei test per poter acquistare i farmaci. Secondo quanto riportato da alcuni organi di informazione cinesi, il colosso farmaceutico AstraZeneca è stato anche precedentemente indagato per casi di frode assicurativa medica riguardante la vendita di farmaci antitumorali. La notizia arriva dopo che la società aveva annunciato la scorsa settimana sul suo sito web che il responsabile in Cina, proprio Leon Wang, stava collaborando a un'indagine in corso e che le sue operazioni nel paese sarebbero continuate sotto la guida del direttore generale di AstraZeneca Cina. Lunedì l'agenzia di stampa Kaixin ha riferito che un'indagine ufficiale resa pubblica per la prima volta all'inizio del 2022 aveva preso di migra rappresentanti di vendita del farmaco antitumorale tagrisso di AstraZeneca nella città meridionale di Shenzhen. In quella dichiarazione l'ente sanitario nazionale aveva affermato di aver organizzato una task force per indagare e di aver fatto arrestare tutti i sospettati. Zuo Yinquan, responsabile delle vendite di farmaci antitumorali in alcune province, è stato arrestato l'8 gennaio 2022. Secondo il rapporto, quello è stato l'inizio di una serie di casi di frode assicurativa che hanno coinvolto la società. Nel giugno dello stesso anno diversi dipendenti della società sono stati arrestati dalla polizia e sempre nel settembre del 2022 era stato arrestato un altro direttore generale. Nel 2023 Zuo è stato condannato a 11 anni e 6 mesi di carcere per frode, mentre il direttore generale a 13 anni e 6 mesi. Ci sono poi tre manager dell'azienda che sono stati arrestati dalla polizia a luglio. Non ci sono informazioni ufficiali disponibili sulla loro posizione. Pare che siano stati convocati perché sospettati di aver introdotto nel paese un farmaco antitumorale non approvato. In queste ore è arrivata la risposta di AstraZeneca. La società ha affermato di essere pronta a collaborare nelle indagini avviate in Cina. Prendiamo molto seriamente il caso cinese e, se richiesto, collaboreremo pienamente con le autorità. L'azienda è a conoscenza di una serie di indagini individuali da parte delle autorità cinesi su dipendenti attuali ed ex dipendenti. Il Ministero degli Affari Esteri Cinesi ha rinviato una domanda sull'indagine alle autorità competenti senza fornire ulteriori dettagli. Il governo cinese invita le imprese straniere a investire e fare affari in Cina e garantire i loro diritti e interessi legali in conformità con la legge, ha dichiarato il portavoce del Ministero Lin Yan durante un incontro con la stampa. Per AstraZeneca la Cina chiaramente è un mercato importantissimo. Si può dire tutto dunque della Cina, ma ve la immaginate una scena dalle nostre parti con cinque, sei importantissimi funzionari di multinazionali del farmaco arrestati per casi di questo tipo? Da noi forse le indagini neanche partirebbero. D'altronde abbiamo in Europa il caso di Ursula von der Leyen. Secondo quanto aveva riportato un mese fa il Financial Times, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea esaminerà tra pochi giorni, il 15 novembre, proprio il caso Pfizer. Il New York Times aveva citato in giudizio la Commissione Europea nel gennaio dello scorso anno contestando il mancato accesso ai messaggi di testo privati tra il Presidente della Commissione von der Leyen e l'amministratore delegato di Pfizer burla durante la corsa all'approvvigionamento dei noti prodotti. Cosa deciderà la Corte di Giustizia dell'Unione Europea? Possibile che una vicenda così clamorosa rimanga in silenzio? E come mai una trasmissione come Report che fa le pulci a tutti alla von der Leyen ancora non le ha fatte?